Buongiorno, Antonio Loverso, dirigente Flata Zoritalia. Siamo presenti in questa manifestazione felina internazionale all'Hotelli Club Isola Sacra di Fiumicino. Siamo lieti di questa partecipazione perché per noi è una vetrina importantissima. Il prodotto che presentiamo in questa manifestazione è Flata Zoritalia, un prodotto francese di altissima qualità con tutte le referenze gatto, dal cucciolo al seni o ai mantenimenti normali. Abbiamo avuto un successo straordinario nella giornata di ieri e mi auguro che possiamo averlo anche questa serata. Abbiamo avuto un riscontro eccezionale da parte degli allevatori e ci auguriamo che possa dare riscontri in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti